Ecco l'idrogeno, vi presento l'idrogeno e basta con le parole come transizione ecologica, economia circolare, deve diventare un argomento che tutti quanti, dai posti di lavoro, alle famiglie, al supermercato, parliamo di idrogeno. Perché l'idrogeno? Perché l'idrogeno può inquinare meno, può aiutare l'umanità a decarbonizzare l'energia e con l'idrogeno non si fanno grandi esperimenti, si possono fare anche il caffè. Il generatore Everywhere, che è stato sviluppato nel contesto di un progetto finanziato dalla Commissione Europea, è un generatore che sviluppa energia elettrica a partire dall'idrogeno. Questo tipo di generatore è molto silenzioso, come emissioni ha solamente produzione di acqua e non ha quindi emissioni verso l'atmosfera come i normali generatori ad idrogeno. È un tipo di generatore molto adatto per eventi pubblici, quali ad esempio spettacoli musicali e festival musicali, dove è necessario fornire energia elettrica, ma limitare il rumore e le emissioni verso l'aria. È caldo, è buono, sento già un'energia diversa. Lo sa di idrogeno. Lo sento un po', sa di caffè. Grazie a tutti.